Ciao ragazzi, bentrovati in questa nuova puntata del viaggio. Siamo in un autobus scassato da oramai 18 ore, siamo partiti a mezzanotte, sono le 6, si è fatto il tramonto, piove e l'autista abbiamo scoperto essere un incapace totale e la fiducia di tutto l'equipaggio è crollata sotto zero. Ci sono due coreane simpaticissime e carinissime, tre israeliani molto loquaci e noi due. Bene, ora stiamo attraversando il solito dirupo, il guado, le solite cose, non si sa se è meglio guardare la strada o non guardarla, fa finta di niente. Molti visti come al solito, andiamo avanti verso il futuro, sicuramente questo ci fa passare la notte sul pazzo. Perché tra poco arriverà tutto il pezzo, tutto di fango, assolutamente improbabile, finora la strada era buona in confronto. Però non è che è incapace, non conosce bene la strada, ma come autista è bravo, è molto prudente. Ecco sì, molto prudente, tant'è che ci stiamo mettendo 24 ore. Va bene, ciao ciao.